Tartarughe Ninja numero 13 della IDW, la guerra nella dimensione X tra Utrominom e il pianeta neutrino arriva sulla Terra. Te parevo, pure qua, che bello. Wobalabadabdabe, bentornati su No Mamamazzo, bentornati nella rubrica Tartarughe Ninja, rubrica che sto dedicando alle uscite dell'IDW dal 2013 fino ad oggi. Quando non esce il numero regolare bimestralmente, il prossimo sarà il numero 53 se non sbaglio, e dovrebbe uscire a marzo, quando non esce io faccio una ritrospettiva dei vecchi numeri. Il numero 13 per esempio è dell'agosto 2014, pian pianino all'incirca, con mia previsione, con un annetto e qualche mese, dovrei arrivare a bolla su tutti i numeri che sono usciti in passato. Questa mia ritrospettiva verrà interrotta nel mese di marzo perché mi dedicherò completamente ai tre crossover che hanno avuto le Tartarughe Ninja con Batman, in occasione anche dell'uscita di The Batman il 3 marzo. Prima di cominciare, se ancora non l'avete fatto, vi chiedo di iscrivervi al mio canale, di mettere un bel mi piace o un non mi piace a questo video e anche a tutti gli altri che vi frega di condividere il video con tutte le persone che vogliono vedere una guerra interdimensionale, anche se non credo ce ne saranno molte in questo momento, e commentate qui sotto con quello che venne apparso di questo numero e di come sta procedendo la storia. Seguitemi anche sugli altri miei social, tra cui Instagram e Twitch, per rimanere aggiornati su tutto quello che faccio, oltre a YouTube. Scusate se su Twitch sono stato un po' assente questa settimana, ma non sono stato molto in forma. Purtroppo il numero inizia con la devastazione di Smada, la capitale del pianeta neutrino. Non è certamente un argomento che volevo leggere in questi giorni, persino sulle Tartarughe Ninja, però tant'è che pure qua si parla di questo. Vediamo fondamentalmente il maestro Splinter, ovviamente sulla Terra, vediamo il maestro Splinter, che vuole fare una sorta di discorso, un discorso motivazionale alla sua famiglia, che è stata molto segnata nella mente, oltre che nel corpo, dalle ultime battaglie. Abbiamo appunto Leonardo, che è molto provato dal fatto che ha accidentalmente ucciso, o crede di aver ucciso, Slash. Abbiamo Michelangelo, che purtroppo si è visto negare, in un certo senso, l'amicizia del suo amico pizzaiolo Woody, perché è rimasto... cioè, Woody è comunque si è accorto di quanto siano coinvolti nelle battaglie tra gang di New York e non ne vuole far parte, quindi sono tutti molto provati. Donatello in qualche modo cerca di sistemare la loro nuova base sotterranea, che non ho capito se è all'interno di una vecchia chiesa o è sotto la vecchia chiesa, questa cosa non me la ricordo. e quindi vuole in qualche modo fare in modo che la loro forza, la forza del loro clan, ampli le proprie alleanze. Conscio del fatto che le alleanze che intraprenderanno le tartarughe ninja non saranno alleanze di comodo, come quelle di Baxter Stockman, come quelle di Krang, come quelle di Shredder, ma saranno alleanze fondate sul fatto che loro sono una vera famiglia e quindi ci tengono anche al bene comune del prossimo, delle persone con cui si alleeranno. April propone appunto di allearsi con lo scienziato Chet, che noi abbiamo scoperto nel numero 12 che altri non è che il robot fuggitoide, che può assumere l'aspetto che vuole. Il robot è stato un neutrino, ha downloadato, ha scaricato la sua coscienza sul robot fuggitoide, proprio per riuscire a attraversare un portale extradimensionale quando non era ancora pronto il portale, quando non era ancora assicurata la sopravvivenza. In questo modo appunto si è dato una piccola speranza. Il robot fuggitoide, che si chiama anche Professor Honeycutt, questo è il suo vero nome da neutrino, ha perso la sua famiglia in questa fuga dalla dimensione X e si è rifugiato sulla Terra prendendo l'aspetto di Chet e lavorando in incognito per la Stockgen, il laboratorio di Baxter Stockman, che sta collaborando niente po' di meno che con il generale Krang, che è a capo delle operazioni di invasione del pianeta neutrino. Inutile dire che è uno spasso che è bellissimo dal punto di vista visivo vedere finalmente l'entrata in scena dei neutrini, che mantengono questo look tamarrissimo anni Ottanta che avevano nella serie del 1987. Introdurli in questo modo è davvero figo, ci mostra come il loro look fondamentalmente sia legato alle usanze del loro paese, della loro cultura, le orecchie a punta sono appunto un segno anche distintivo dei neutrini, i capelli così tamarrissimi, molto strani, sono un altro segno distintivo del pianeta neutrino. Vengono introdotti i tre personaggi guerrieri di Zack Kala e un altro personaggio che non mi ricordo, vediamo, è Dusk, il comandante Dusk, e viene introdotta anche la principessa di neutrino, del quale Michelangelo si invaghisce ovviamente, perché se vede una bella ragazza Michelangelo perde la testa. Ecco, scrivetemi qua sotto, io non ricordo, se nei cartoni Michelangelo era innamorato della principessa o di Kala. Io sono abbastanza convinto che fosse innamorato di Kala e non della principessa, però anche se fosse un piccolo cambiamento ovviamente ci sta tantissimo. C'è un piccolo incontro-scontro tra i neutrini e le tartarughe ninja, perché proprio mentre April ha un rendezvous privato in un parco con Shay e cerca lentamente di fargli capire quello che lei sa e se lui può essere un alleato sicuro, proprio in quel momento i neutrini con un portale, un portale a quanto pare più sicuro, perché non hanno avuto bisogno di fondere la loro coscienza in un robot per attraversarlo, comunque tant'è, in questo portale arrivano a New York e vogliono prelevare il professor Honeycutt, il fuggitoide. Ovviamente le tartarughe non sanno ancora chi cacchio sia questo fuggitoide, vogliono proteggere Shay ed April e quindi tutti pensano che siano nemici degli altri. Mentre tutto questo accade, vengono riteletrasportati sul pianeta neutrino, peccato che in questo teletrasporto di ritorno vengono coinvolte anche le tartarughe ninja. Le tartarughe ninja ovviamente combattono a fianco, o meglio, prima cercano un po' di capire cosa sta succedendo, poi danno un attimo una mano ai neutrini che si stanno difendendo dall'attacco dei guerrieri di pietra, quelli al soldo del generale Krang, e una volta che la situazione è stabilizzata, dopo che tra l'altro Michelangelo è riuscito appunto a salvare la principessa dalle grinfie dei guerrieri di pietra, riescono a capire alcune cose fondamentalmente, e quindi anche noi lettori scopriamo alcune cose che non c'erano molto chiare, ovvero che il pianeta utromino è questo pianeta popolato, e comunque in minoranza, dagli utron, che sono questi cervelli senzienti all'interno di corpi meccanici, ciò nonostante siano una minoranza, sono comunque al comando del mondo, un po' come l'Europa nel, non lo so, nel 1400, nonostante fosse il continente più piccolo, era il continente più colonizzatore. Qua più o meno è la stessa cosa per gli utrom. Utrom a un certo punto, gli utrom scusate, a un certo punto non si sono più accontentati del pianeta Ucromino, e volevano anche andare oltre, volevano espandersi e conquistare altri pianeti. Ora non è molto ben chiara la cosa su come questo abbia contribuito all'estinzione del pianeta Ucromino, però io presumo che sia dovuto al fatto che il mutageno, quello che noi chiamiamo mutageno, il liquido che ha mutato le tartarughe ninja, era la prima fonte di sostentamento degli utrom e degli abitanti del pianeta Ucromino. Probabilmente hanno usato questo mutageno per la guerra, e di conseguenza non ce n'è più stato sul pianeta Ucrom, che è stato ridotto in povertà e alla fine si è estinto in qualche modo, però non lo spiegano benissimo. Fondamentalmente mostrano come il generale Kuan Yin, che è il predecessore del generale Krang, aveva assunto il professor Honeycutt per farsi aiutare in questa guerra. Il professor Honeycutt aveva fatto presente che appunto il mutageno non aveva risorse infinite e quindi gli utrom potevano rischiare di perdere appunto questa conquista dello spazio. Così è stato, ma il generale Kuan Yin non lo ha ascoltato ed è morto anche lui in battaglia, morto sulla sua astronave. Il generale Krang ha preso le redini del generale Kuan Yin e vuole riportare, comunque dare una sorta di salvezza al popolo superstite del pianeta Utrominum, o quantomeno della razza Utrom, perché solo gli Utrom si sono salvati dalla distruzione di Utrominum. Questi Utrom superstiti sono finiti su Barno Island, che è l'isola sulla Terra dove il generale Krang sta cercando di costruire il tecnodromo che noi fan delle tartarughe ninja dell'87 conosciamo bene che cos'è, ma se non lo conoscesse, il tecnodromo è una sorta di morte nera un po' più piccola che serve non a distruggere gli altri pianeti, ma serve a terraformare. In questo contesto serve a terraformare il pianeta, quindi a rendere vivibile il pianeta per gli Utrom, quindi creare un'atmosfera adatta agli Utrom. Tra l'altro, cosa curiosa, le tartarughe ninja avranno, lo vedremo anche in futuro, avranno bisogno di un respiratore per respirare su Barno Island, avranno bisogno di un respiratore per respirare l'aria di Utrom, ma a quanto pare in questo teletrasporto improvvisato non hanno bisogno di un respiratore per respirare sul pianeta neutrino. È chiaro che il piano di Krang sia una volta che ha creato appunto il tecnodromo, sia terraformare poi il pianeta neutrino per farlo diventare una sorta di nuovo Utromino e trasferirci di nuovo lì tutti gli Utrom con le risorse che sta cercando di avere sulla Terra. Ha bisogno del professor Honeycutt, anche il generale Krang, per aiutarlo a finire il tecnodromo. Baxter Stockman ha fatto quello che ha potuto fare finora con le risorse terrestri, ma adesso servono delle risorse della dimensione X che solo il professor Honeycutt è in grado di costruire, è in grado di creare, non lo so. Fatto sta che il generale Krang, per avere il professor Honeycutt, ha rapito il re e la regina di neutrino e vuole fare uno scambio fondamentalmente. Inutile dire quanto sia stato difficile leggere queste pagine in questi giorni e vedere anche certe immagini disegnate in questi giorni. la metafora extradimensionale in cui si vede fondamentalmente una guerra in atto è stata abbastanza disturbante, anche perché ti fa capire quanto le cose siano, nonostante siano diverse, siano uguali in ogni dove e purtroppo in questi giorni la realtà ha quasi superato la fantasia, la finzione, purtroppo. Piccola nota a margine, vediamo una cena tra Oroku Saki e la sua nipote Oroku Karai in cui disquisiscono su quello di cui avevano parlato qualche numero fa, ovvero sul fatto che Shredder vuole avere come suo secondo in comando, suo Chunin, Leonardo, perché l'ha trovato tra le tartarughe il più degno, lasciando perdere lo smacco di avere come Chunin Leonardo e dare alla propria nipote il compito di doverlo reclutare a forza, nipote che potrebbe essere benissimo, lei la sua seconda in comando, Karai appunto non è molto d'accordo ovviamente con questa decisione, ma per evitare di farsi ammazzare dal proprio nonno che è uno spietato stronzo, vuole comunque adempiere ai suoi voleri e sta rallentando in questo compito non per la sua opposizione, ma perché sta cercando di radunare delle persone più potenti, perché ha visto quanto le tartarughe siano difficili da sconfiggere. Quindi ragazzi, sicuramente presto vedremo Karai che muterà dei guerrieri. Ora non so se arriveranno subito Bebop e Rocksteady, ma sicuramente Karai inizierà a mutare delle persone per avere dei soldati mutanti. La guerra purtroppo non si risolve con un solo numero, vediamo appunto che nel finale Krang minaccia di uccidere la famiglia reale e poi tutto il pianeta neutrino e quindi vedremo poi nel prossimo numero che non sarà sabato prossimo, ma sarà probabilmente nel mese di aprile se ho fatto bene i calcoli, vedremo appunto come continuerà lo scontro tra Utroominon e il pianeta neutrino. Io vi ringrazio per avermi seguito fino a qui, come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video e sarà a tutto cross over. Arrivederci.